Il progetto Piemonte Visual nasce dalla necessità di mettere i cittadini nelle condizioni di capire cosa fanno le istituzioni, di comprendere che cosa succede nei palazzi e di accedere ai dati delle pubbliche amministrazioni. Piemonte Visual ha promosso la realizzazione di infografiche e data visualization su vari ambiti. Con il progetto Piemonte Visual il Consiglio regionale del Piemonte è risultato finalista del premio Smart City di SMAU, evento fieristico dedicato all'informatica e alle nuove tecnologie tenutosi a Torino il 14 e il 15 maggio. Piemonte Visual è un brand che identifica iniziative volte a divulgare i dati delle pubbliche amministrazioni.